Musica Bentrovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net Prosegue questa fase di tempo anomalo per il periodo contraddistinta da temperature in genere oltre le medie del periodo e forti escursioni termiche fra la notte e il giorno principalmente nelle vallate Martedì 22, sereno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale a parte qualche locale foschia sulle Ioniche e nell'area dello stretto di Messina Venti deboli, solo localmente moderati dai quadranti meridionali soprattutto sulla bassa Calabria Mari calmi o tutt'al più poco mossi Condizioni invariate per mercoledì 23 ottobre Tempo bello e molto mite alle ore diurne Mari tutti poco mossi Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento